Musica 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 Beh ragazzi come benvenuti a questo nuovo video Minecraft Ci stariamo oggi finalmente in un nuovo episodio della Pixelmon Ci stariamo oggi Nel ventesimo episodio Diciannovesimo, vabbè ragazzi non mi ricordo In cui in cui siamo comunque ci stariamo sempre In un bellissimo episodio in cui già ho tutti quanti Pokémon scombinati nel mio Inventario dei Pokémon quindi andiamo subito Ah no è vero che come sempre non ho un computer E devo andare dal buon Tierloss a rubarlo Siccome vedete nel episodio di oggi sarà un episodio Molto ma molto strano Ultimamente ormai sono molto deriso Perché continuo a perdere tutti quanti i Pokémon E qua c'è ancora il blocchetto di Cobblestone che devo rimettere Al buon Tierloss intanto qua Roba che posso rubare perché oggi ragazzi Nel mio episodio sarà davvero molto strano Però prima rimettiamoci tutti quanti i Pokémon in l'inventario Perché andare in giro con un Magikarpanova Non è che vada tanto bene Dai rimettiamoci anche il nostro bellissimo Blastoise perché ho letto Un sacco di commenti di persone che si lamentavano Perché non usavo il mio starter DeMarco non uso il tuo starter Avete ragione Ho dimenticato il mio bellissimo Blastoise Comunque nell'episodio di oggi Faremo le persone molto brutte e molto cattive Ho in mente oggi di rubare un pochino a tutti quanti Nelle varie case oggetti molto a molto preziosi Fare delle chest e nasconderle in un posto molto segreto Non lasciando solamente un messaggio Innanzitutto ci craftiamo un pochino di chest Ne abbiamo un bel po' di legna Quindi siamo in 8 Potrei farmene 8 giuste così 9 vanno più che bene Di dare una controllata che c'è nel server c'è il buon Eren Quindi Prima visto che il buon Eren si stava tippando a una parte Allora inizierei a mettermi via Tutte quante le mie cose in qualche chest Tipo in questa chest No perché sono un coglione Mettiamo via Un attimino un po' tutto quanto Poi riprendo tutte quante le ball Nel caso spawnasse qualche leggendario Impazzirei davvero rega ve lo giuro Se non ho dietro le mie ball Quindi ci prendiamo tutto quanto Mettiamo via Poi legna 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 dove sei E facciamoci un pochino di sticchetti E ci facciamo un pochino di cartelli Rega dai Credo che ormai 16 cartelli Oddio Ho fatto 30 cartelli Non me ne sono nemmeno accorto Comunque allora C'è il buon Eren Che tecnicamente Allora innanzitutto saliamo sul nostro Entei Perché dobbiamo cavalcare il nostro Entei Il nostro Entei Per andare a rubare Alla Jinter Che non dobbiamo farci notare Credo che su Entei non ci noterebbe nessuno Allora Casa di Eren è da questa parte Devo vedere se è a casa sua Eren Perché se il buon Eren è a casa sua Doviamo fare tutto quanto Molto stea Un animale Volare di qua Entei Allora Ce la facciamo? Ce l'abbiamo fatta Allora calma Uh Eren è a casa Scendiamo e ritiriamo Il nostro bellissimo pokemon Il buon Eren sta pure registrando Quindi calma Ti zitti Ciao Simo No Ciao Simo No me ne vado Me ne vado Me ne vado No Simo non mi bicchiare Simo non mi bicchiare No vi ho scoperto Ciao Volevo salutarti Vengo in pace Rega il buon Simo ci ha scoperto Niente Il buon Simo ci ha scoperto Dovremmo fare un salto nella sua casa Un po' più tardi secondo me Quindi scappiamo Andiamo via Andiamo via dal buon Simo Rega andiamo Nella casa più vicina Che dovrebbe essere Quella di Di Charlie E poi c'è quella di Tina Quindi Da loro posso fare un salto Molto molto veloce Rega secondo me Il buon Entei Che Che ci ha fatto sgamare Ci ha fatto sgamare troppo Entei Non va bene Non va bene Andiamo giù dal buon Entei Qua spacchiamo questo alberello di merda E andiamo da Charlie A rubare qualcosina Anche da lei Vediamo Quante c'è Un film Ok No ma Come si può entrare a casa di Charlie Ci sono solamente dei messaggi Perché Charlie non viene da tanto Sulla Pixelmon Vediamo che materiali Molto molto rari Potrei rubare C'è questo martello in diamante Che potrebbe fare al caso nostro Rega Quindi io lo ruberei più che volentieri A balanciarle Un martello in diamante Poi c'è questa Pokemon qua Tutta sola soletta Non la rubo La rubo ovviamente Poi Vediamo cosa potremmo rubare d'altro Non c'è nient'altro Sinceramente che vedo di tanto tanto raro Volo Magari un volo io lo ruberei Vediamo vediamo Poi un pochino Così Poi Io lascerei qua un cartello Con scritto Sei stata derubata Per ritrovare i tuoi oggetti Su Delle palle volanti Devi andare Andare Subito a posizionarla Una bella chest In un posto Molto ma molto Segreto Ok raga Intanto Eren Si è tipato da un'altra parte Quindi con molta calma Io metterei qua la chest Con sopra il cartello Con su scritto Charlie Perfetto Charlie Io metterei dentro I suoi bellissimi materiali Poi dobbiamo essere Stra velocissimi E tattici Per andare da Eren Quindi velocissimi Mi serve Salamence No dove l'ho lanciato Che pirla Torna indietro Pirla Allora vieni qua Perfetto Andiamo 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 da Eren Andiamo da Eren Velocissimi Allora Entriamo in casa del buon Simo Tattici Chiudiamo la porta Perfetto Allora Dove ci leggetti il buon Simo Vediamo Uh qua c'è una chest Potrei rubarli Potrei rubarli Tutta quanta La sua attrezzatura Del team rocket Mettiamoci via Tutti quanti I suoi materiali Rega Prendiamoci tutte quante Queste robe I piedini ce li ho in mano Perfetto Ora mettiamo giù Un altro cartello Sei stato Derubato Dal vero Nuovo Team rocket Su Delle palle Volanti Dovrai Andare Perfetto rega Anche il buon Simo È stato derubato Wow È stato davvero un furto Molto tattico Perché siamo stati scoperti All'inizio E il buon Simo Secondo me Già sospettava Qualcosina Però Va bene così Scappiamo Però c'ho su anche L'armatura del team rocket Quindi questa cosa qua Non va affatto bene Perché se mi vedesse in giro Con su un'armatura Da team rocket Secondo me Qualche domanda Se la potrebbe fare Chissà quando lo scoprirà Chissà Vabbè rega Allora Molto easy Ormai Anche il buon marci Visto che non è nel server Diciamo che Sarà una cosa Molto molto semplice No c'è un pokemon Oddio Ma è un boss Non comune Wow figo Voglio combatterlo Allora Calma staravia Non correre troppo Non correre troppo Staravia Calmati Oh ce l'ho fatta rega Ce l'ho fatta Minchia Un staravia Al 75 Va bene Proviamo con un rogodente Al volo rega Lui mi ha tolto un bel po' Eh Anche io l'ho tolto un pochino Magari Mi droppa qualcosa di figo Eh Sarebbe magari Eh la madonna Un tuono devastante Sarebbe magari Una cosa figa Vediamo cosa mi può dare Il gran staravia No dai Rimane un ps Li rimane Dai forza Uccidiamolo Mi ha dato Una rapid ball E una sveglia Beh la sveglia Mi sa di avere un pochino In cui si addormentano Però vabbè Sti cazzi Una merda Un lapras Vediamo Così a caso Non nemmeno ho visto il livello Dai lapras Ma sei un sacco di merda Rega mi scrivete nei commenti Cos'è sto roba E come si fa a utilizzare Roba del genere Me lo sono sempre chiesto Eh Allora Qua ci sono un po' di regali Per il bontano Io comunque entrerei Vediamo cosa c'ha Qua ci sono altri regali Qua ci sono materiali Inutili A parte una nemta Che potrebbe essere tattica Qua c'è una leva Uuuuh Ho scoperto la tua base Eh Tannal Volevi fregarmi Vediamo qua cosa c'ha Il buon Tannal Minchia Tannal ma sei pieno Zeppo di roba Mamma mia Rega Tannal è pieno Zeppo Però comunque Qualcosina gliela potrei rubare Vediamo No Tutte le caramelle rare Dai ci sta secondo me E un Tre diamanti Rega Tre diamanti Poi vediamo cosa c'è qua dentro Mhh Nient'altro Un messaggio a cuore Nient'altro Allora Lasciamo giù Un cartello al bontano Dicendo Sei stato derubato Dal tuo amore Minchia rega Che messaggi top Andiamo 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 Rega Secondo me è più difficile Però il bontè Perché devo scoprire Il suo laboratorio segreto Dove si trova Per rubargli i materiali Vedremo Vedremo Però devo salire sul mio ente Perché se no non ha senso La mia rapina Andiamo Vediamo un pochino Il nostro Matteo Cosa possiamo rubare Noi passiamo direttamente Dall'alto Come se avesse tipo Un'entrata per i pokemon Volanti Allora Il buon Teo Madonna Quanti chicocchi hai Zio Pesci pagliaccio Wow Non l'avevo mai visto Quante mosse Teo Lancia fiamme Wow Vediamo un pochino Cosa c'hai anche Potrei rubargli Qualcosina A caso Quante cose Bigio Li ruberei tutte queste cose qua Quasi quasi al buon Teo Li rubo tutte quante quelle robe Dai scappiamo Scappiamo Andiamo a posizionare questi nostri furti Nel nostro posto segreto Rega Che poi tanto segreto non è Perché non ci vuole tanto a capirlo Mettiamo via Tutte quante queste cose qua Di bigiotteria Ice Perfetto Comunque rega Dicevo Mi sembrava una roba Un po' divertente Oggi fare questo episodio Perché comunque Non sapevo che fare Perché Stavo registrando questo video qua Il giorno stesso E diciamo che Ero un pochino Senza idee Però come si fa ad andare giù da marci Mi sembra che ci sia Tipo un elevetro da qualche parte E niente rega Ero un pochino senza idee Non c'è nessuno ancora Per registrare Che sono tutti quanti in vacanza Quindi diciamo che Volevo registrare qualcosa Di divertente O per farvi divertire un pochino Perché andare sempre in giro A catturare pokemon O robe del genere Magari dopo un po' È un po' noioso Secondo me Quindi ci sta a fare una cosa ignorante Del genere Però vediamo un pochino cosa c'è Oddio Questa qui Ovviamente è la macchina Quella delle Tipo delle bibite Quindi me la rubo Poi vediamo qua Sono un sacco di mt Un cartellino rosso Che è da prendere Perché al bombarci Ce lo diamo sul calcio Lui Quindi Li rubo un pochino Tutto quanto Poi vediamo Un pochino di pokeball Qua materiali preziosi Cosa ha a bombarci Un pochino di oro Un po' di name tag Un fortu nuovo Quindi li rubo Vediamo Allora un riposo Perché a bombarci serve Anzi tutte e due Un po' di riposo Serve a bombarci Un bullo Ci sta Perché adesso sto facendo il bullo Quindi ci sta a rubarlo Rimasto solamente Ah no Sia tier che tech Già che ci siamo Farei tutti quanti I furti Insieme Quindi andiamo dal buon tier Perché ormai sono sempre da lui A usare il suo computer E queste robe Vediamo un attimino Dove posso atterrare Col mio salamino salamens Ah no Qua c'è un altro elevatore Volevi nascondermi tutto quanto Buon tierlos Sì È vero che avevo il piccone Inciantato Io lo rubo subito Al buon tier Quanti fossili Troppi fossili Buon tier Io ruberei la macchina fotografica E questo fossile Perché mi piaceva di più Tipo Tirto Uga Io lo rubo E dai basta Basta rubare cose Perché non ce la faccio più a rubare oggetti Allora Ci manca solo il buon tech Allora Tiriamo fuori il nostro Entei rega Perché ormai ci manca solamente L'ultimo furto della giornata E poi mi sento Sempre meno team rocket Più avanti Allora calma un attimino Andiamo dal buon tech Sul nostro entei rega Che è una bomba Corri entei Quando c'ha voglia corre Quando non c'ha voglia Tipo sta fermo Si mette sugli allori Entei Allora E basta Prendere danno Bischero Siamo a casa del buon tech Qua ci sono un sacco di regali Qua c'è un frigorifero Dal buon tech Mi spiegate perché c'è un frigo Dal buon tech Chiudiamo la porta Metti in caso che sale Sulla pixelmon Sarebbe un casino Però come cacchio faccio Andare dal buon tech In alto Questo è un bel dilemma rega Bisognerebbe passare Da dove? Dove passo? Mica il buon tech È inattaccabile rega No rega Sta cosa qua mi sta triggerando Un sacco Non posso andare dal buon tech Rega Io non posso rompere dal buon tech Sta cosa qua mi sta triggerando tanto Molto anzi Niente rega Il buon tech Ci ha triggerati La sua casa è davvero Inattaccabile Però devo più o meno Capire dove si trova Il suo nascondiglio segreto Boh Non si sa rega Davvero Il nascondiglio di tech È una cosa Pazzesca Dovrei magari fare Nel prossimo episodio Magari una ricerca Del nascondiglio del buon tech Cosa ne pensate? Dai Andiamo a sistemare Uh il buon Eren è tornato a casa Io tra un po' dovrei fare Una cosina con lui Quindi magari andiamo a vedere A casa sua se è ancora lì E lo troviamo magari Che sta cercando i suoi materiali Ha 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 Perfetto rega Abbiamo rubato praticamente A tutti se non sbaglio Credo di sì Credo di sì Mi sa che manca anche Kenny Manca Oddio Ma quanti siamo su questo server? Siamo in troppi Cara Kenyota Hai trovato Raiko Prima di me E quindi dovrai Pagarmela Mi dispiace Ma adesso Vengo in casa tua E ti rubo tutto quanto Allora Vediamo Oh qua c'è una porta aperta What? Sta cosa mi mette ansia Mmm Kenyota c'ha tante 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 Ghiocche già cotte Vediamo qua sotto Cosa c'abbiamo Un sacco di quei materiali Inutili Niente di che per ora Qua un bel po' di dischi Oddio Qua è piena zeppa di chest Kenyot Un sacco di MT Rega Un sacco di rimedi Un sacco di queste robe qua strane Che sono gli oggetti PKM Che non so cosa siano Uh Anche te Keny Fai parte del team rocket Aspetto Allora queste me le rubo Queste me le rubo Più che volentieri Rega Poi vediamo Cosa c'ha di altro Uh Le enderpearl Me le rubo Più che volentieri Questa è MN5 Che ne ha tre Dai Le rubo tutte e tre Però Le rubo tutte e tre E gli lascio L'ultimo messaggio Dal rompipalle Sei stato derubato Perché sono dei messaggi In codice Che appena le gira Oh quel coglione di Marco Mi ha rubato le cose Abbiamo preso un sacco di cose Keny Non sono stato cattivo Così tanto con nessuno Che gnota Perfetto rega Io direi Concludiamo qua dentro l'episodio Ragazzi mi raccomando Lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivetevi al canale Per questo video molto ignorante Da Marco è tutto Mi raccomando Vi ricordo Ci sono tante altre tipo Playlist in giro Nelle schede Qua sotto mi raccomando Iscrivetevi se ancora avete fatto Da Marco è tutto Spero che questo video ignorante Vi sia piaciuto rega Non avevo idee Quindi mi piaceva fare qualcosa Di divertente oggi Da Marco è tutto Bella